Aone, a tutti e a tutte! Con quale acconciatura ve lo sto dicendo? Da notare la molletta con un fascino spettacolare. In la Barbie world, life in plastic, fantastic, you can brush my hair, undress me everywhere, imagination, lucky suffreation, poi farebbe come on Barbie, let's go party, ma meglio di no. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Lauri, sì ho tipo continuato la intro ma va bene. Allora, siete pronti alla notizia della vita? No, voi non siete pronti alla notizia della vita. O Instagram? Adesso momento, pubblicità, che ci sta, probabilmente la rima più triste che abbia mai fatto. Allora, andate tutti a seguirmi, mi chiamo Lauri130, non chiedetemi il motivo, sì, 130 si vola, Martin Garrix. All'inizio volevo chiamarmi Lauri007, come l'agente 007. Ma che garciof? Adesso possiamo iniziare con la reaction. Più che reaction sarà un colpo di infarto. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare assolutamente Nico, Letta, che mi ha suggerito questa bellissima reaction da fare, appunto, delle page Instagram. Verone, apriamo la nostra cara Instagram, vabbè, questa è la mia pagina Instagram, se volete seguitemi. Bravi, ho già 63 follower, cioè, è meglio di YouTube, cioè, ogni giorno faccio 10 follower. Facciamo il conto, 10 follower qua li raggiungiamo in un mese, quindi, a belli, le zie, siete stati battuti da sti qui. Perciò, andate a battere sti qua, andate ad iscrivervi, così fate vedere l'amore che avete per me nel vostro corassone. Bravi, cucciolotti, carciofotti. Maghi. E soprattutto, andate a seguire, appunto, Nicoletta, che si chiama Nico Happy, brava Nicoletta, che mi ha suggerito molte, appunto, page, eccetera, da seguire, meme, queste cose inutili. Andate a mangiare alla pizzeria, alla terrazza. No placement. Andiamo già a fare qualche reaction. Mi ha fatto morire da ridere, ancora non me lo ricordo più già, è già, è solo da, tipo, 4-5 giorni che ho Instagram e già ho scordato tutto quello che ho guardato. Perfetto, quindi, alle interrogazioni immaginate che figure. Non lo so perché, ma mi ha fatto ridere. Ditemi anche voi giù nei commenti se avete, non lo so, se solo a me è capitato che mi ricorda tanto una di quelle nostalgiche musiche dei Pokémon. Sì, tipo, quando li catturi. Poi la tartaruga, non so chi può essere, cosa... Tortugas? Tortugas, si tuffano! Tortugas, ma che simpatiche! Tortugas, sembrano vere! Gioccano con te! Tortugas, una diversa dall'altra. Camminano, nuotano, come tartarughe vere! Giochi preziosi! Dopodiché, secondo meme che vi voglio mostrare, è veramente top. Cioè, praticamente non è una reaction, è una top ten. I'm John Cena! Date un premio Nobel a quest'uomo. Questa, veramente, merita la vita. Devo rivederla assolutamente anche perché non me la ricordo di nuovo. E godetevelo! Proprio una cupola! Questa, veramente, merita la vita. Questa, veramente, merita la vita! giuro questa è la mia colonna sonora della vita altro che titanic basta c'è zio se ti mandassero in discoteca vedi quante nonne vanno dietro tutte quarta mimi sì quarta mimi 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 questa è la parodia ufficiale del mio compleanno sui cart io adoro adoro veramente adoro questa page giuro che stavo cadendo dalla sedia questa mi ispira molta fame a 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 Non è un'offesa a te benedetta gambero No al bulismo sui gamberi No Che cosa sto facendo esattamente della mia vita? Ma povero Patrick No al bulismo sulle stelle Lo stavo facendo triste invece Eh volevi All the other kids with the bumped up kiss he's better run better run faster than my phone Assunta sa usarlo meglio Mia nonna No 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 guardare questo video Questo veramente bellissimo C'è tipo la Sì la cosa Come dice Assunta La cosa della cosa del coso Ma che cosa faccio? Cioè alla fine la tizia non sgrida la ragazza Le dice semplicemente che ha sbagliato il lato Invece di dirgli ma cosa fumi? No Giro la sigaretta Non è il lato giusto Non ho mai visto una cosa più sexy nella mia vita Sai cosa fa un telfino nel deserto? Si suicida? Possibile Confermo confermo grazie Grazie Eh ve l'ho detto che su Instagram si fanno fans e famo views Tutto si fa su Instagram Che frase Assuoli il video è finito Spero vi sia piaciuto A me non è piaciuto Raggiungiamo i 25 like Dai ci sta Ci sta no? Eh e che carciofo Sai quanto mi ci vorrà per montare? Perciò ciaone A tutti E a tutte E sempre questo momento senso Ce l'hai questo momento Ce l'hai PS Chi non mi segue Sa che fine farà il suo cricetto Hm